Prima di due partite interne consecutive per il Rimini, tre se consideriamo anche la gara di Coppa Italia con il Cesena del primo dicembre. Per la decima giornata di campionato la Romeo Neri arriva alla fermana di Mister Protti, una vita sulla panchina della San Maurese. I gialloblu sono a quota 8 in classifica, i biancorossi con i loro 17 punti sono invece a meno uno dalla vetta. Mister Gaburro ritrova Mencagli e porta in panchina Serpe, ultimo acquisto in casa Rimini. Ancora auto a Lievi, Sereni, Loduca e Piscitella. Il tecnico dei biancorossi torna a schierare per dieci undicesimi la formazione delle ultime tre domeniche, con unica eccezione Tofanari al posto di Laverone. Al tredicesimo Gabbianelli dà la bandierina, Regini colpisce di testa, Nardi para senza affanni. Al ventisettesimo il signore Pezzopane di L'Aquila punisce questo intervento di Gabbianelli su maggio. L'esecuzione di Giandonato è perfetta, fil di palo, nulla da fare per Zaccagno, gialloblu in vantaggio. Alla mezz'ora lancio di Tonnelli in area, Pellizzari colpisce Denuzzo, parò di chiudo su Delcarro, il tiro di pase è murato. Quello di Santini trova sulla sua traiettoria la mano di Pellizzari. Per l'arbitro si può proseguire nonostante le proteste dei giocatori biancorossi. Al trentatresimo sulla crossa da sinistra di Regini finiscono a terra in area Vaneo e Delcarro. Per il direttore di gara è tutto regolare, ammonito per proteste il centrocampista di Gaburro. Al trentaquattresimo Santini viene steso da Giandonato a metà campo. L'arbitro concede il vantaggio. Delcarro allarga destra per Gabbianelli, che gli restituisce il pallone in area. L'ex Ancona con una diagonale da due passi supera Nardi. Uno a uno è festa, con anche tanta rabbia sotto la tribuna centrale. Al quarantatresimo si l'uro di Santini dal limite dell'area, pallone a lato. Nello stesso minuto, dall'altra parte del campo, gran diagonale di Maggio, Zaccagno si supera. Al nono della ripresa la punizione di Fischnaller è parata in due tempi dall'estremo di casa. Una manciata di secondi dopo, Gabbianelli per Santini, la cui stoccata da fuori aria finisce a lato. Al quarto d'ora Maggio per Denuzzo, sul cui cross Romeo impatta di testa. Pallone non distante dal bersaglio. Al sedicesimo lancio lungo di Giandonato. Pietrangeli sbaglia il controllo, poi stende Fischnaller. Rigore giallo per il difensore biancorosso. Dal dischetto lo stesso Fischnaller spiazza Zaccagno. Fermana nuovamente avanti. Uno a due. Al ventiduesimo angolo per i Larrimini. Nardi va vuoto, del carro viene murato, poi Panelli impatta male. Al venticinquesimo Averi lavora palla a sinistra, poi serve Gabbianelli che mette in moto Santini. Movimento per liberare il destro, sfera a fondo campo. Al ventisettesimo sugli sviluppi di una rimessa, la Verona va al traversone. Averi incorna le spalle di Nardi, ma c'è la bandirina dell'assistente alzata, perché il pallone nella traiettoria aerea ha superato la linea di fondo campo. Al quarantesimo Gabbianelli fa filtrare in area. Velo di Santini, Mencagli si gira e calcia, incrocio di pali. Al quarantasettesimo rosso per Gabbianelli, che va verso il fondo e serve nuovamente il compagno. Controllo con il sinistro e conclusione vincente di destro. È il gol del due a due. Il numero diciannove bianco-rosso si leva la maglia e viene ammonito. Dopo altri quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio. Finisce due a due. È il secondo pareggio consecutivo per i Larrimini, che infila il quinto risultato utile e sa la quota 18 in classifica. Sabato Olneri arriva la Carrarese.